Profumi, sapori, sorrisi, cultura e tanta qualità al giusto prezzo. E' l'Artigiano in Fiera, il villaggio mondiale aperto per nove giorni a Fiera Milano, Ropero, da sabato primo a domenica 9 dicembre. Artigiano in Fiera mette in mostra tradizione, innovazione e originalità, per condividere col pubblico la cultura di un lavoro finalizzato sempre a costruire qualcosa di buono, di bello e di utile per la collettività. Tanti dei nostri visitatori quando vengono in Fiera rimangono colpiti dalla storia, dall'esperienza di questi 2.900 artigiani di 110 paesi del mondo, perché lì si vede che cos'è la genialità dell'uomo, la sua cultura, la sua arte. L'Artigiano in Fiera è in questo senso un'esperienza unica a cui tutti possono partecipare nei nove giorni di manifestazione. Abbigliamento, accessori, oggettistica, articoli da regalo, oreficeria, gioielleria, arredamento e enogastronomia. Tutte le dimensioni e le spaccettature dell'immenso mondo dell'artigianato trovano una loro rappresentazione in Artigiano in Fiera, dove ogni giorno è una festa con eventi musicali, spettacoli, degustazioni enogastronomiche e tanta cultura da tutto il mondo. Regali di qualità a prezzo conveniente è la formula per chi cerca in Artigiano in Fiera il luogo ideale per gli acquisti natalizi. Si può spaziare tra gli stand delle regioni italiane, quelli delle culture europee, ma anche gli artigiani dell'Asia, dell'Africa e delle Americhe. L'artigianato è un'opportunità per uscire dalla crisi, lo dimostrano anche gli ultimi dati diffusi da Union Camere, che hanno evidenziato una difficoltà a far sopravvivere le imprese esistenti, ma anche una riscoperta di questo mondo. Artigiano in Fiera è anche Abitare la Casa, il salone dedicato all'arredamento artigianale di qualità, per soluzioni su misura per la propria abitazione. E poi AF Moda, con il meglio delle creazioni della sartoria italiana. Suggestive le creazioni dei talenti emergenti, riuniti nell'area AF Giovani e Design, un vero e proprio incubatore per i designer del futuro. Per gli obbisti c'è AF Passione Creativa, Regno delle Arti Manuali, dove poter imparare a realizzare oggetti e decorazioni. Novità di quest'anno è il Festival del Cake Design, per divertirsi con i maestri italiani della Sugar Art, e dar sfogo alla propria fantasia nella preparazione dei dolci. L'artigiano in Fiera sarà aperto dal 1 al 9 dicembre a Fiera Milano Ropero, dalle 10 alle 22.30 al sabato, nei giorni festivi, e giovedì 6 dicembre, da lunedì 3 a mercoledì 5 dicembre, apertura dalle 15 alle 22.30. Fermata metropolitana M1 e passante ferroviario Rofiera, per info www.artigianinfiera.it E non dimenticate i social network Facebook con la pagina ufficiale L'Artigiano in Fiera, Twitter per cinguettare col profilo etartigianofiera. Per i più tecnologici, IAF, l'app per vivere artigiano in fiera sul proprio smartphone.